800-900 milioni da spendere nel 2016 per dare altri importanti input alla ricostruzione della città dell'Aquila. Se nel centro storico l'asse centrale procede bene, molte frazioni attendono invece ancora la luce, ma a brevissimo giro, annuncia Cialente, il sindaco dell'Aquila partiranno anche qui i cantieri. Il ritardo c'è stato, ammette, nel centro storico. Di fatto siamo partiti nel marzo 2013 con la ricostruzione vera e propria. Il cronoprogramma ha avuto uno slittamento, ma ora con i fondi a disposizione possiamo finalmente rispettarlo. Il problema, quello cronico, secondo il primo cittadino, resta quello del personale e la lentezza a causa di questa difficoltà nello smaltire le pratiche. Il sindaco però ha già chiesto interventi in questo senso al governo centrale. Per quel che riguarda il centro storico, l'asse centrale, come dicevamo, va bene. Un piccolo ritardo si sta registrando soltanto per l'edificio della biblioteca e per qualche altro palazzo del centro, ma tutto sommato si procede. Il sindaco dice che nel 2019 si sarà a buon punto con la ricostruzione, anche per le frazioni dell'Aquila. Il vero problema, dice Cialente, non è ora la ricostruzione che sta andando, lo scrive anche Repubblica, ma l'obiettivo del 2016 del Comune dell'Aquila dovrà essere necessariamente il rilancio economico e occupazionale. Su questo proprio non ci siamo. Grazie.